A questa PCL, a questi ottavi di finale ha prodotto anche Armando Farina che è arrivato qui facendo, scanando tutti gli step perché tu hai fatto un free roll, poi step 1, step 2, ottavi di finale e adesso? Adesso mi è andato male, ho tratto uno che stava più bene di me e mi ha buttato fuori. A dire crimini qualcosa hai giocato male? No, non ho giocato male perché io gioco molto ma molto diversi da tutti loro perché loro giocano con sicurezza, aspettano le carte giuste, tutto ciò io no, io gioco con qualsiasi carte, vado perché sono imprevedibile e quindi metto un po' in difficoltà loro perché è proprio perché il gioco è diverso, sono imprevedibile. Perfetto Armando io ti ringrazio, ti auguro in bocca al lupo per tutto e arrivederci al prossimo evento. Grazie. Grazie.